Musica Benvenuti sul canale, qui è Kratos25 Allora ragazzi, oggi sono qui con l'imperdibile appuntamento cinecomic del mese appunto per recensire un film che non aspettavo più di tanto perché i trailer non mi avevano convinto appieno ma alla fine, nonostante gli impegni lavorativi, alternanza scuola-lavoro e via dicendo sono riuscito finalmente ad andare a vedere ieri sto parlando ovviamente di un film 2019 per la regia di David F. Sandberg ed ovviamente Shazam, il nuovo capitolo del World of DC Universe Allora ragazzi, come avete potuto vedere anche dalla community, i messaggi in community di ieri sono andato a vedere il film e il cinema era deserto, vuoto, era solo per me la sala e mi chiedevo appunto il perché, cioè anche in America questo film non sta facendo chissà grandi incassi a me è interessante andarlo a vedere perché più che altro la curiosità della DC è sempre abbastanza viva in me sperando che un giorno raggiungano alti livelli come la Marvel con Aquaman c'erano già andati molto vicini, anche con Justice League secondo me ma con Justice League un po' meno con Aquaman c'erano andati veramente molto vicini quindi speravo che questo Shazam, nonostante i trailer non mi avessero convinto per niente perché sembrava una schifezza commerciale e anche comica e le commedie non mi piacciono sono andato a vederlo con un po' di curiosità e alla fin fine, quando mi sono ritrovato dopo solo dieci giorni dall'uscita con il vuoto assoluto al cinema, con solo io che lo guardavo mi sono chiesto, sulla poltrona mentre c'erano le pubblicità ma perché anche in America sta facendo pochi incassi? perché nessuno sta guardando Shazam? e sinceramente dopo aver visto questo film mi sono fatto una mia idea allora, il film non è per niente brutto contrariamente alle mie aspettative anzi, è un film molto carino semplicemente non è DC e questa è la miglior definizione che posso dire è un film DC ma non è della DC teoricamente cioè mi è sembrato di vedere un film Marvel è sinceramente uno dei più deboli cioè non mi è sembrato nemmeno di vedere un film della DC hanno preso paro paro lo stile Marvel e l'hanno impiantato a forza in questo universo narrativo ho capito che da quando è uscito Aquaman che c'è la nuova gestione hanno abbandonato i Tony Dark, Freddy del DC per concentrarsi su qualcosa che fosse più commerciale ma un conto è essere commerciali e fare un po' come Aquaman andare sulla propria strada un altro conto è creare un origin story che sembra abbia fatta la Marvel e sinceramente da un film della DC non è questo che voglio vedere però ai dettagli ci arriveremo tra poco il film comunque ripeto gli do come voto un 7 discreto perché insomma non... cioè non discreto ma più che altro decente perché insomma non è brutto ma allo stesso tempo non è neanche eccesso ed è molto più debole rispetto ad Aquaman dal mio punto di vista ma comunque oh mi ha offerto un po' di intrattenimento in questo ho riso perché per fortuna non è quella comicità in stile Spider-Man Homecoming che io detesto proprio quel film mi ha fatto veramente cagare non la smetterò mai di dirlo questo film almeno ha una comicità che i trailer ingannano perché i trailer ti propongono qualcosa alla Spider-Man Homecoming invece è un qualcosa di molto più ben mirato prende gli stereotipi dei supereroi e ci gioca sopra ti fa anche ridere a riguardo mi piace anche quando hanno inserito il concetto della magia nel DC Universe oltre anche a Wonder Woman ma Wonder Woman è una roba più mistica ma mistica nel senso di mitologica piuttosto che misticismo allo stato puro proprio l'occulto l'hanno inserito bene in questo contesto però si poteva fare molto di più mi è sembrato un dottor strange malfatto questo film ma neanche tanto malfatto ma ci vediamo tra poco io adesso vorrei parlare dei personaggi allora cominciamo con il protagonista Billy Butson che è interpretato da Asher Angel ma guardate devo ammettere che il personaggio mi sembrava veramente antipatico dai trailer un po' come anche il suo amico Freddy però invece la sua storia è molto ben scritta direi hanno trattato il personaggio con una certa umanità e questo che mi piace il realismo nei cinecomics perché insomma siamo in un universo teoricamente non so come definirlo realistico è la nostra realtà trasposta però con città come Gotham City gli eroi quindi ha senso appunto creare un universo che sia umano e anche realistico mi è piaciuta questa dinamica che in giro ci sono gli esseri super potenti i super eroi Batman, Superman certo per quanto abbiano accantonato il multiverso cioè non il multiverso l'universo condiviso anche la sigla all'inizio del DC Universe è scomparsa comunque in questo universo come raccontano nella storia ci sono ancora Superman, Wonder Woman Batman in giro per il mondo che hanno le loro che fanno le loro missioni però non sappiamo appunto cosa stiano facendo in quel momento questa è la storia di Billy e lui deve diventare appunto il protettore del mondo Shazam i cui poteri vengono concessi dal mago e poi ovviamente non posso parlare di di Billy Batson senza parlare ovviamente della sua controparte Shazam interpretato da Zachary Levi doppiato in più da Maurizio Merluzzo allora ragazzi io non sono un fan di Maurizio Merluzzo più che altro perché non lo seguo non perché mi sento di particolare tutt'altro però dopo aver visto un paio di suoi video proprio ieri sera che sono trovato dal cinema penso che lo seguirò perché insomma è simpaticissimo Maurizio Merluzzo e ha doppiato veramente bene il personaggio di Zachary Levi ma veramente i personaggi mi sono piaciuti anche ciò che distingue Billy dall'essere Shazam perché è comunque un supereroe che ha una vita segreta e anche una vita pubblica ed è bellissimo vedere anche come cerca di mettere insieme le due cose è una specie di Batman sfigato o addirittura anche Superman sfigato perché non ha ben chiare le idee di cosa fare nel contesto supereroistico ed è veramente bello vedere come il film e soprattutto la regia di David Sandberg gioca su questo punto di vista perché come ho detto poco fa il film appunto gioca sulla questione dell'essere eroe e essere anche un ragazzino allo stesso tempo è bello vedere proprio in maniera registica come riesce a dividere le due parti certo è sempre la stessa persona ovvero Billy diventa Shazam pronunciando appunto la parola Shazam la persona è sempre la stessa però i contesti in cui è inserito cambiano sempre questo mi è piaciuto mostrare proprio il lato umano del supereroe da questo punto di vista certo l'hanno fatto moltissimi altri film ma mai in maniera personale e tra virgolette scolastica come questo film secondo me mi è sembrato molto vicino al ragazzo invisibile di Salvatores a parte che però ad un certo punto Freddy che è l'esperto dei supereroi in questo film chiede appunto se potessi scegliere sceglieresti volo o invisibilità è un piccolo richiamo per me almeno al ragazzo invisibile ma è solamente nella mia testa questa cosa e quindi il personaggio mi è piaciuto molto anche Maurizio Merluzzo che doppia Zachary Levai è stato veramente spassoso ha centrato in pieno il personaggio e anche il tono non come Giannini e di lui ne riparliamo a fine video che dovrò andare a vedere un certo film in settimana e non sono per niente ansioso vista le premesse e quindi questa era Billy Batson anche la storia che lo circonda perché insomma lui come si vede dai trailer è un orfano che cerca disperatamente sua madre e il percorso che deve percorrere questo personaggio un po' come tutti quanti i supereroi mi ha toccato profondamente perché insomma il film gioca con le tue aspettative e poi a un certo punto non dico che le ribalta ma in un certo senso non è anche sovrata le aspettative ma arriva a un punto cruciale arriva a un climax che neanche tu sotto sotto ti aspetti io personalmente non me lo aspettavo ma è effettivamente nell'aria un certo colpo di scena ma neanche tanto e quindi il personaggio mi è piaciuto molto anche il percorso che deve fare come supereroe invece l'ho visto troppo troppo velocizzato cioè a un certo punto c'è una data cosa che accade anche tra lui e Freddy però da lì a diventare un eroe effettivamente il passo è molto breve ma non nel senso positivo cioè il film tratta molto velocemente la questione di diventare supereroe diventare persona normale non so perché ma l'ho vista un po' velocizzata la cosa ora invece passiamo al mio attore preferito eheh e questa è una vera chicca Mark Strong che interpreta il dottor Tadeus Sivana che è il villain del film allora io amo Mark Strong perché era il Lord Blackwood di Sherlock Holmes con Judd Law e anche Robert Downey Jr e lì è sempre stato nella mia infanzia un villain veramente con i controcazzi oltre che essere stato ben recitato Mark Strong è un bravissimo attore ha fatto anche tantissimi film che non mi starò a citare adesso ok il personaggio è carino nel film certo Mark Strong lo interpreta veramente bene proprio con con serietà e anche con una certa dedizione anche al ruolo ma il ruolo per lo più mi si è aspettato qualcosa di più certo è veramente ben approfondito ma è un po' stereotipato cioè è il classico super cattivo di ogni di ogni fumetto io sono cattivo distruggerò il mondo non mi trattavano con serietà quando ero piccolo quindi mi vendicherò distruggendo il mondo sì insomma è una cosa che abbiamo già visto e rivisto cioè ragazzi io da questi cinecomic soprattutto di sì e parlo soprattutto di sì non pretendo il Joker di Earth Ledger 2.0 non chiedo una copia a carbone ma almeno qualcuno che metta anche dei significati dentro io non chiedo mai la raffinatezza ma almeno qualcosa di diverso dagli schemi perché insomma questo film è se molti di voi accusano per esempio Captain Marvel e intendo Brie Larson il cinecomic con Brie Larson della Marvel se molti di voi accusano Captain Marvel di essere un cinecomic veramente piatto io vi spido a paragonarlo con Shazam cioè Shazam è veramente la semplicità fatta a film Captain Marvel almeno introduce dei colpi di scena a mio parere questo film invece è molto lineare ci sono un paio di colpi di scena che mi hanno veramente convinto non dico di no ma non siamo ai livelli di Captain Marvel secondo me proprio neanche lontanamente ma c'era appunto la possibilità di farlo c'era la possibilità con tutti quanti anche i plot twist che era possibile ideare diciamo col personaggio di Sivana ma invece no il personaggio di Sivana senza spoiler la sua backstory ci viene rivelata fin dall'inizio del film e poi per tutto il film boh io sono cattivo ti distruggo non mi ha convinto appieno però come personaggio ha dei poteri veramente interessanti e anche i suoi aiutanti diciamo che ci sono i sette peccati capitali in questo film e mi ha inquilusito vedere appunto appena li hanno nominati vedere come li avrebbero messi in scena perché insomma ho letto qualche fumetto di Shazam con i sette peccati capitali prima di entrare ovviamente in sala a vedere il film esteticamente sono un po' simili ai fumetti in questo film non c'è nessuna foto al riguardo però vabbè non voglio spoilerarvi più di tanto sono simili ai fumetti però avrei voluto anche vedere visto che rappresentano l'avidità l'acidia cose di questo genere avrei voluto anche che i loro poteri oltre alla forza bruta si incentrassero soprattutto sulle loro capacità perché eccetto il design per esempio avidità avidità ha quattro braccia gola ha per esempio una pancia gigantesca ecco ma eccetto il fattore estetico mi ha deluso che in questo film loro non usano abilità legate al loro nome abilità certo effettivamente che abilità vuoi fargli usare però con un minimo di sforzo puoi creare un potere che c'entri qualcosa possono anche ammagliare le persone no loro semplicemente nel film piccolo spoiler usano la forza bruta non usano chissà che poteri la cosa mi ha un po' deluso però ecco a parte gli effetti speciali gli effetti speciali diosanto a un certo punto un po' come in capta in marvel gli effetti speciali iniziano a vacillare cioè a un certo punto verso la fine del film a tre quarti di film gli effetti speciali diventano cartuneschi i sette peccati capitali mi riferisco anche diventano dei pupazzi sullo schermo ma scusate queste produzioni hollywoodiane che problemi hanno a fine film con gli effetti speciali veramente alla fine di ogni film ultimamente gli effetti speciali peggiorano perché io non lo capisco boh ma ormai è la prassi diciamo ed è il turno di jack dylan grazer che interpreta il piccolo freddy l'amico di billy butson nonché appunto spalla comica del film allora un po' come ned di spider man oncoming a me le spalle comiche non piacciono per niente perché veramente il tipo di comicità mi fa veramente schifo e effettivamente all'inizio del film quando viene introdotto questo personaggio che fa battute senza senso come nel trailer dicevo ma perché ci deve essere sempre questo personaggio rompipalle però e c'è un però grande come una casa a un certo punto quando un po' dopo piccolo spoiler che il ragazzo come si vede nel trailer scopre che billy ha acquisito i poteri di shazam un po' dopo più principalmente nella scena dell'autobus lì qualcosa cambia nel personaggio e appunto mi è piaciuto il suo cambiamento perché almeno per tutto quanto il film sembra una spalla comica veramente schifosa poi però quando c'è anche un piccolo dilemma morale allora mi è piaciuto come cambia il personaggio perché insomma dà almeno un po' di voce a tutti quanti noi che vorremmo avere i superpoteri ma non li abbiamo e appunto senza spoilerare troppo a un certo punto Freddy ha un cambiamento dentro e mi è piaciuto vedere come l'hanno trattato insomma a fine film non viene trattato più di tanto perché succede un'altra cosa però mi è piaciuto vedere appunto come il personaggio matura cambia e a me piacciono i personaggi che cambiano cioè Sivana dall'inizio alla fine è identico cioè all'inizio del film povero bambino che lo maltrattavano diventa cattivo Sivana non ha nessun cambiamento morale purtroppo e neanche personale cioè ha proprio e così e basta dall'inizio alla fine del film mentre invece il piccolo Freddy non me l'aspettavo ma è maturato veramente molto non come quella schifezza di Ned in Spider-Man Homecoming ripeto però appunto mi è piaciuto come personaggio ora invece vediamo Jimon Honsu che interpreta il mago Shazam allora prima di criticare il personaggio ma più che criticare non c'è niente da dire vorrei dire una cosa e a me sembrava che gli accordi con la Disney barra Marvel fossero che un attore che è nell'MCU non può recitare in un film della DC barra Warner Bros ma allora mi scusate perché in Aquaman nella scena post credit Randall Park che in Ant-Man and the Wasp era l'agente l'agente V interpreta lo scienziato che è ossessionato da Atlantide e in questo film Jimon Honsu che era in Guardiani della Galassia e Captain Marvel Conat l'inseguitore in questo film interpreta il mago Shazam e in più in Aquaman c'era anche Jimon Honsu che in CGI interpretava il pesce col tridente il re dei pescatori ma mi spiegate che senso ha fare dei contratti con la Marvel se poi la DC li può rompere quanto vuole ma eccetto questo veramente Randall Park in Jimon Honsu non capisco perché siano in questo film è effettivamente però Barry White in Superman l'uomo d'acciaio e anche in Batman v Superman era interpretato da Laurence Fishburne ma lì ha senso perché è Laurence Fishburne che si è andato dalla DC ed è andato alla Marvel a fare il dottor Bill Foster però non capisco perché gli attori della Marvel vanno poi dalla DC se hanno un contratto che glielo impedisce ma vabbè tant'è allora ragazzi devo dire che il mago Shazam mi aspettavo che avesse un ruolo molto più ampio in questo film ma invece piccolo spoiler lo vediamo all'inizio del film nella scena poi in cui lui dà i poteri a Billy Batson basta non lo vediamo più e mi è dispiaciuto perché insomma va bene Shazam diventa poi Zachary Levi che è appunto Billy Batson però un ruolo così importante mi sarei aspettato che facesse da mentore al ragazzo che gli insegnasse appunto come funziona la magia quali sono i sette regni come battere i sette peccati capitali e dottor Sivana boh niente gli dà i poteri e sparisce dal film è un peccato forse lo rivedremo in futuro ne dubito fortemente però chissà forse lo rivedremo ma il personaggio ripeto mi aspettavo di più soprattutto interpretato da Jimon Onsu che è un bravissimo attore ma tant'è e questi erano i personaggi principali poi ci sarebbero tantissimi altri personaggi che però sono se non secondari addirittura terziari o quartiari non so che altro modo definirli parlando della regia di David F. Sandberg non dico che al pari di Venom perché Venom era veramente mal montato anche questo film è ben montato per fortuna ma la regia è un po' identica cioè anonima non trovo nessun punto a favore di David F. Sandberg diciamo che ha fatto il compitino ha portato a casa un cinecomic decente non per niente nei toni della DC ma effettivamente in questo film ci sono parentesi comiche e anche parentesi horror i sette peccati capitali non voglio spoilerarvi niente ma fanno dei massacri censurati ovviamente senza sangue però non so a volte non riesce ad alternarsi bene questo film tra la comicità e la violenza perché violenza è stato pure a un certo momento che io dicevo ma sto guardando veramente un film di C barra Marvel o siamo tornati al Cavaliere Oscuro in un certo punto ma vabbè la sceneggiatura molto semplice ma a tratti molto originale e anche ben mirata alla comicità questo film si concentra molto sulla comicità ed è per questo che per me non è un film della DC ripeto non ha senso per me fare un film comico in un universo dark come la DC non ha senso almeno il mio punto di vista e secondo me è per questo che non sta piacendo alle grandi masse perché io personalmente da fan della DC se vado a vedere un film DC non voglio non voglio sentire parlare di commedia o comicità per quello vado a vedermi un film Marvel ma io con i film Marvel mi diverto tantissimo con i film DC secondo me la comicità è fuori posto ma so che anche nei fumetti Shazam è un personaggio comico per questo dico che non aveva senso fare subito Shazam ma è un dettaglio il film mi è piaciuto comunque e sono felice di questo certo non ho goduto a guardarlo quanto essere da solo nella stanza nella sala però eh questo è ebbene ragazzi allora ripeto il mio voto finale è 7 un film decente poteva essere di più ma non è un film della DC è un film Marvel mascherato come film DC purtroppo non ha niente a che vedere con i film DC qualche cameo ogni tanto c'è e mi è veramente piaciuto rivederlo ma più di questo non mi ha suscitato chissà che grande interesse sempre più interesse per la scena post credit e quella merita tantissimo allora il prossimo film che andrò a vedere sto weekend è Hellboy di Neil Marshall speriamo che sia bello però dopo che ho sentito i trailer in italiano ho perso le speranze col doppiaggio di Giannini veramente extraterrestre portami via voglio una stella che sia tutta mia della serie ma comunque speriamo che questo Hellboy sia bello noi ci vediamo alla prossima quattro recensione di gameplay molto di più adesso inizia la parte spoiler quindi se avete già visto il film potete proseguire se non l'avete ancora visto ma è dubito non proseguite la visione gli spoiler iniziano fra 3 2 1 vai allora vorrei cominciare parlandovi un attimino dei miei dubbi appunto sul raccordo tra comicità e violenza ora che siamo nella parte spoiler posso parlarne più nel dettaglio allora perfino come inizia il film a me sembrava un film di sì in piena regola cioè il film inizia con Sivana da bambino che è nell'auto con il suo padre e il suo fratello che lo bullizza il padre si vede che è sempre dalla parte del fratello maggiore e quindi lo tratta come una schifezza il piccolo Sivana Sivana viene portato nel covo di Shazam da una piccola visione cioè il padre e il fratello spariscono dalla macchina veramente un bel tocco registico almeno quello almeno quella scena l'unica che mi viene in mente degna di nota e il ragazzino finisce con la macchina nella grotta di Shazam grazie a una magia però viene tentato dai sette peccati capitali che vogliono fargli prendere l'occhio mistico di cui non mi ricordo almeno io Shazam capisce che il piccolo Sivana non è puro di cuore e non lo sarà mai ma vabbè non gliene faccio pienamente la colpa perché è diventato così grazie al padre e al fratello stronzo e quindi lo rispedisce nella vera macchina dal padre e dal fratello non facendolo campione però i demoni non lo lasciano mai e infatti fanno sì che un'auto investa investa l'auto che si ferma in mezzo al ghiaccio e appunto lì mi è sembrato un film di simpia regola ripeto con il padre immerso nel sangue il fratello che in colpa Sivana di quello che ha fatto io ero lì che dicevo wow questo sì che è un tema dark veramente oscuro con anche la palla da otto che se la scuoti e le fai una domanda ti risponde magicamente inizia a formare il messaggio find us trovaci il che dimostra che sono stati i sette peccati capitali a causare l'incidente per trasformare Sivana in quello che è oggi però da lì in poi il film molla completamente la tematica dark e ci troviamo nella comicità assoluta comicità 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 che era quello a cui ero preparato però l'inizio del film è ingannevole perché ti propone un qualcosa di veramente dark e poi a un certo punto quando Sivana prende l'occhio dal covo di Shazam perché anche lì è veramente divertente il raccordo tra comicità e horror quando Sivana riesce a creare la porta grazie ai simboli i sette simboli dei peccati capitali e una dottoressa una psicologa bate sulla porta e finisce polverizzata urlando perché viene bruciata dalle fiamme infernali io dicevo cazzo che figata questo è veramente una roba horror e poi anche quando Sivana prende l'occhio l'occhio mistico e se lo mette in faccia e da lì l'occhio gli diventa ferito proprio con una cicatrice gigantesca tipo Oscar del re leone i sette peccati capitali si liberano dalle prigioni entrano nel suo occhio e da lì lui va all'agenzia di suo padre la Sivana Industries che poi l'ex corp Sivana Industries Queen Consolidated si tutte quante queste aziende spuntano fuori non le hanno mai nominate ed ecco che appunto lui fa un massacro nella stanza del consiglio davanti a suo padre cioè Sivana prende il fratello maggiore lo sbatte fuori dalla finestra ammazzandolo e poi libera i sette peccati capitali che fanno un macello nella stanza vabbè il sangue non si vede a volte però dicevo ma porca miseria quante figa sta roba sembra di essere proprio i temi dark della DC ma per tre quarti del film il resto è tutto quanto comicità battute veramente non mi è piaciuto cioè ero preparato ma non è la DC questa fare un film così comico non è un film della DC lo dico apertamente e quindi mi è piaciuto veramente molto poi come dicevo il percorso che Freddy e Billy percorrono perché Billy inizia a diventare arrogante inizia a diventare una celebrità grazie a YouTube magari avessi le stesse visualizzazioni ma comunque Freddy decide di trasformare Shazam in un'icona della televisione anche di YouTube sfruttando il web e filmando ciò che sa fare la super forza la super velocità per farlo diventare un fenomeno da baraccone del web ma lo scopo di Freddy sarebbe farlo diventare un super eroe in pieno stile tipo Superman e diventare il suo manager ma Shazam cioè Billy a un certo punto perfino si scorda di sua madre e pensa solo a fare il buffone sul web il che non lo rende un eroe e infatti Freddy dimostra anche un po' la sua arroganza dicendo che non voleva che Billy avesse il potere ma lo voleva per sé voleva lui essere quello figo almeno una volta perché il piccolo Freddy è paraplegico anzi no non paraplegico comunque ha un disturbo e quindi voleva essere lui quello speciale almeno una volta ma non ha avuto nemmeno quella gioia e quindi voleva almeno fare da spalla a Shazam diventare il manager di un eroe mi è piaciuto appunto che lui mostri la sua umanità lì dimostri la sua arroganza e lì mi chiedevo che sarebbe successo se il mago avesse scelto Freddy invece di Shazam forse sarebbe stato un po' un casino ma la cosa cambia a fine film nello scontro finale a Luna Park quando appunto entra in scena la Marvel Family e io gli dicevo ma che schifo di costumi ma quanto è figo il momento cioè veramente ragazzi io vi dico il costume di Shazam e anche i costumi della Marvel Family mi fanno cagare potevano fare delle armature fighissime invece no calzamaglie schifose va bene però il concetto della Marvel Family come nei fumetti è bellissimo veramente ma veramente bello però ragazzi lo scontro finale con il dottor Sivana l'ho trovato veramente sotto tono ovvero Shazam che lancia i fulmini i due che volano e si picchiano sembra lo scontro tra Zod e Superman a un certo punto solo senza pathos e a un certo punto si lasciano battere Sivana e i sette peccati non solo perché Shazam condivide il suo potere con i fratelli adottivi i cinque fratelli e quindi in totale i re diventano sei perché ci sono sette troni e loro sono in sei poi alla fine ma comunque sanno che per battere Sivana devono far uscire tutti i sette peccati così lui sarà vulnerabile perché sono i demoni che gli danno i poteri di Shazam ma senza i demoni dentro l'occhio lui lo può staccare con facilità e allora guarda caso tutti quanti i demoni escono ma appunto invidia che è il più suscettibile resta nascosto dentro Sivana e Shazam ovvero Billy più insulta Sivana e più insulta anche invidia più invidia cerca di uscire per fargli vedere il fatto suo e infatti è proprio provocandolo che Sivana viene battuto veramente come usare il potere della cattiveria proprio contro il cattivo non mi è piaciuto più di tanto lo ammetto poi però un'altra cosa che veramente mi è interessata ed è l'ultima cosa che mi viene in mente di parlare prima di un certo cameo è il percorso che Billy fa con la madre perché insomma per tutto il film si scopre che lui è un orfano che cerca sua madre e però la cosa che però non mi aspettavo pensavo fosse una trama per i sequel a un certo punto Billy trova sua madre e lì io ripensando appunto alla visione ho riscontrato un grandissimo buco di trama che vabbè effettivamente non è un chissà che buco di trama però boh non saprei allora viene fuori che il piccolo Billy come si vede nei flashback ha perso sua madre a Luna Park dove avviene lo scontro finale dopo che lei aveva vinto un premio e qui il piccolo il piccolo Billy si perde nella folla e appunto passa i restanti anni a cercare sua madre cercando tutte quante le donne con lo stesso nome ok e a un certo punto viene fuori che i fratelli adottivi che stanno con lui in casa hanno trovato la vera madre perché usava il cognome da Nubile e quindi il piccolo conosceva solo il nome da Nubile e non sapeva qual era il vero nome della madre ok fin qua ci siamo però il problema è questo secondo me secondo me è proprio questo il buco di trama allora lui può anche aver passato tutto quanto il suo tempo a cercare la stessa persona senza cercare il nome da Nubile e quindi c'è cascato ma la polizia proprio non so la polizia le autorità nessuno ha mai fatto questa scoperta cioè ci riesce un bambino hacker che dice di aver giocato a Watch Dogs e è solo così che ha appreso grandissime tecniche di hackeraggio ma mi volete veramente far credere che le autorità di Chicago o di Philadelphia e Philadelphia non abbiano mai trovato porca miseria la madre cioè anche l'indirizzo cioè vabbè a un certo punto non l'ha più trovata a casa sua ma ci sono state delle prove l'avranno trovata in qualche punto no niente perché viene fuori appunto e questo doveva farmi riflettere colpo di scena che la madre non è che perse Billy lo lasciò lì cioè lei vide che lui si era staccato dalla sua mano e ne ha approfittato quando ha visto che era con la polizia per lasciarlo perché appunto lei aveva 17 anni quando è rimasta incinta non aveva non voleva avere responsabilità maledizione a lei e quindi ha deciso buono lasciamolo lì e lasciamo casa il padre in più era in prigione quindi ben più che mai ma veramente un buco di trama immenso cioè e poi anche se le avessero scoperto la polizia possibile che non abbiano mai avuto il coraggio di dirgli anche adesso che aveva 17-18 anni che sua madre non l'ha mai voluto ma un po' di tatto cioè tu vedi che questo ragazzino continua a scappare di casa e a rubare i volanti della polizia per cercare chi non lo vuole dirgli qualcosa dirgli in faccia la verità lo puoi anche distruggere moralmente però almeno fallo rigare dritto in un modo o nell'altro dirgli come stanno le cose se l'hai scoperto ma no qui in questo film nessuno ha mai scoperto il nome da nubile di sua madre eccetto un ragazzino hacker neanche tanto bravo e nessuno ha mai trovato la madre in tutti questi anni di ricerche ma veramente proprio scritta malissimo sta roba secondo me comunque alla fine Billy ha il confronto con sua madre che però appunto non lo vuole gli dice in faccia la verità e Billy gli lascia l'ultimo ricordo che aveva ovvero una mini bussola dicendole appunto pare ne hai più bisogno tu di me perché quando era piccolo la madre gli disse che la bussola gli avrebbe sempre indicato la giusta via e vabbè gli è piaciuta come storia poi deve andare a salvare i fratelli che sono in ostaggio di Sivana dei sette peccati capitali poi ce le lasciano dopo i turi di coda dopo che è stata formata la Marvel Family e trasformano la grotta di Shazam nel covo poi prima che il film finisca si scopre che a scuola alla mensa si mostra Shazam con addirittura anche il Superman di Henry Cavill non interpretato però da Henry Cavill perché appunto siccome secondo me Henry Cavill è fuori da sto universo infatti il Superman che si vede in questo film non lo si vede mai in faccia si vede la prospettiva dal tavolo ovvero altezza a cui sono io seduti e Superman col vassolo in mano col collo tagliato dall'inquadratura e non si vede chi lo interpreta quindi appunto secondo me Henry Cavill è fuori dai giochi lo sostituiranno presto ma mi è piaciuto veramente molto rivedere Superman e poi scendo a doppio di coda si vane ancora vivo in un carcere federale a quanto sembrerebbe oppure un istituto psichiatrico continua a disegnare i nomi dei sette peccati capitali per magari aprire la porta però non serve a niente perché forse Shazam con la magia ha bloccato il passaggio e arriva questo verme che io ero lì che guardavo che cazzo è sta roba poi ho capito che era Mr. Mind perché insomma avevo letto qualche fumetto ogni tanto però non mi ricordavo perché c'è un verme qua si vedeva anche in inizio film che era rinchiuso in una teca di sicurezza magica poi però quando si vanno a distrugere la grotta allora è scappato evidentemente e c'è il piccolo Mr. Mind su una grata della prigione che comunica con lui dicendo io non invocherei gli dei fossi in te casomai sono loro a invocare me tu e io ci divertiremo tantissimo e quindi questo vuol dire non solo che un sequel di Shazam è pronto ma in più si sta formando la legione del male come anche il sopravvissuto Black Manta in Aquaman ci dimostrava e in più Lex Luthor assieme anche a John Manganiello che interpreta Deathstroke non Floyd Lawton non mi ricordo qual era il nome di Deathstroke purtroppo ma comunque Lex Luthor Deathstroke e Black Manta sono ancora vivi liberi di vagare nel mondo insieme magari a Sivana e a Mr. Mind formeranno la legione del male secondo me e sarebbe veramente divertente vedere come procederà la storia ebbene ragazzi ho finito di parlare a questo film da voto 7 poteva essere molto di più ripeto e questo è quel che volevo dire mi piace fare accensioni gameplay e molto di più a presto grazie a tutti